Salve a tutti, sono Mattia per le amiche più intime Matioschi e sono qui quest'oggi per raccontarvi la mia esperienza da cavaliere Jedi. Perché sì, recentemente sono entrato a far parte dell'ordine, giusto ieri nel tempo libero ho sconfitto Darth Maul. Poi vabbè, già che ero lì ho liberato anche Naboo dai droidi della Federazione dei Mercanti schierando sul campo di battaglia Obi-Wan Kenobi, mio caro amico. No, non sono ancora del tutto impazzito, stranamente, sto parlando sul serio, sono diventato un cavaliere Jedi grazie a Lenovo che con estrema gentilezza mi ha inviato una magica scatola. Una magica scatola che, attenzione, vado ad estrarre dal cilindro. Ecco qui la magica scatola che risponde al nome di Star Wars Jedi Challenges. E sì, dico Jedi perché il nome è in inglese, quindi sono Jedi e non Jedi. Ma che cos'è Star Wars Jedi Challenges? È un videogioco che sfrutta la tecnologia della realtà aumentata e un visore apposito per farci immergere appieno nella galassia lontana lontana. Impugnando letteralmente la spada laser come il nostro amato Luke Skywalker potremo affrontare i Sith più pericolosi nella nostra camera. Sì, anche Darth Vader. Non sono ancora arrivato a lui ma ho già una certa strizza. Ma per spiegarvi meglio di cosa si tratta voglio aiutarmi facendo un bel unboxing. Ovviamente io ho già testato il visore per assicurarmi che funzionasse tutto. Però ho rimesso tutti gli oggetti al posto giusto nella magica scatola per farvi capire bene cosa vedrete quando la aprirete per la prima volta. Il primo colpo d'occhio è di quelli importanti perché non appena avremo sollevato il coperchio della magica scatola. Troveremo davanti ai nostri occhi la spada della famiglia Skywalker. È lei. È proprio lei. La estraggo. E sinceramente non mi aspettavo una riproduzione così accurata in scala reale. Pensavo che sarebbe stato un semplice joystick a forma di Elsa e invece non sfigurerebbe anche in un cosplay. Quindi per me che sono un appassionato assolutamente moderato della saga di Star Wars questo oggettino è un po' come il Santo Graal. Però andiamo avanti non è che posso stare qui a rimirarla per tutto il video. Quindi rimettiamola all'interno dell'apposito vano. Solleviamo il vano per trovare il fulcro dell'esperienza di Star Wars Jedi Challenges. Infatti ecco qui. Attenzione. Ecco qui il nostro il nostro bel visore. Vediamo. Ecco ce l'ho fatta ad estrarlo. Eccolo qui. Non ho ancora tolto la simpatica plastichina. Posso farlo adesso perché no? Ah la soddisfazione di levare la plastichina è impagabile. Continuerò dopo. Comunque sul lato destro del visore. Aspettate che ve lo mostro. Eccolo qui sul lato destro ci sono dei pulsanti che servono per navigare nel menu di gioco. Mentre sul lato sinistro troviamo il vano. Quanti vani? Troviamo il vano per lo smartphone. Perché sì. Cosa estremamente importante. Per giocare a Star Wars Jedi Challenges è indispensabile l'utilizzo di uno smartphone da inserire qui dentro. Quindi controllate che il vostro smartphone disponga di questa feature. Dovrete scaricare l'apposita applicazione sul vostro smartphone. Eccola qui. Ve la faccio vedere. Tadan! Dovrete ovviamente avviarla. Collegare lo smartphone al visore e poi il gioco sarà fatto. Vi assicuro che è più facile a farsi che a dirsi. Anche perché sempre all'interno della magica scatola trovate questa scatolina. La magica scatolina con tutti i vari cavetti del caso appunto per collegare lo smartphone al visore. C'è anche il caricatore della spada laser. Sto cercando di estrarlo. Eccolo qui. Il caricatore della spada laser. Perfetto. C'è davvero tutto. È già tutto a vostra disposizione senza intralci. E poi l'ultimo oggetto. L'ultimo oggetto contenuto all'interno della scatola delle meraviglie è il sensore di movimento che è alimentato da delle pile che sono già presenti all'interno della confezione. Va appoggiato per terra in un'area abbastanza libera da impedimenti, da ostacoli perché all'interno del gioco diventerà il nostro holocron jedi e quindi proietterà i diversi elementi, le varie mappe eccetera eccetera. Ma in cosa consiste il gioco vero e proprio? Ebbene consiste in tre attività distinte che aumentano di difficoltà man mano che si procede, si esplorano i pianeti, i vari pianeti disponibili sulla mappa. E cominciamo con la prima, la più gasante di tutte, la battaglia con la spada laser. Dovremo impugnare l'elsa e combattere contro orde di droidi, di stormtrooper per poi arrivare ad affrontare i boss finali, personcine buone del calibro di Darth Maul, Darth Vader, Kylo Ren, chi più ne ha più ne metta e il tutto risulta molto ma molto coinvolgente anche perché in sottofondo ci saranno le musiche, la colonna sonora di John Williams e anche gli effetti sonori tipici della saga. Devo ammettere che quando Darth Maul ha sfoderato la doppia spada laser davanti ai miei occhi mi sono fomentato alquanto e poi ho dovuto combattere contro di lui. Con quale distrezza e agilità. Si è un po' incazzato. Benissimo, estratto la doppia spada laser, aspettavo solo questo, va. Non ti temo. Molto bene. Diciamo che muovere la spada laser un po' a casaccio, menando, fendenti non è proprio la strategia giusta. Anzi, dovremo capire quando fare gli attendisti e difenderci e quando invece attaccare con tutta la forza. E in questo senso le fasi di combattimento contro i boss sono molto guidate perché ci sono dei suggerimenti su schermo che ci diranno cosa fare. E a primo impatto forse il tutto può sembrare un po' troppo semplice ma vi assicuro che non è così perché più andremo avanti più gli avversari ci faranno il mazzo e più sbloccheremo nuovi poteri della forza. Per ora ne ho sbloccato solo uno, la spinta, la spinta della forza ma non escludo che più avanti si possano fare anche le capriole del maestro Yoda. Perché no? Non lo escludo a priori. Ma passiamo alla seconda tipologia di gameplay che è andata a toccare le mie corde di appassionato di lunga data di videogiochi di strategia in tempo reale. Infatti ci caleremo nei panni di un generale ribelle per guidare le nostre truppe verso l'assalto di varie basi imperiali oppure per resistere, per difenderci dagli attacchi del primo ordine e potremo schierare in campo vari tipi di unità. Soldati semplici, navi spaziali e sto aspettando di sbloccare l'ex wing perché secondo me ci sarà e non vedo l'ora, potremo schierare addirittura dei combattenti, degli eroi del calibro di Obi-Wan Kenobi e vi assicuro che vedere il buon Kenobi che fa il mazzo alle truppe avversarie è una bella sensazione. Ovviamente la disposizione delle truppe in campo non può essere casuale, è fatta alla capocchia ed è fondamentale capire quali sono le unità migliori da schierare con il giusto tempismo. La difficoltà da questo punto di vista mi è sembrata ben calibrata, né troppo facile né troppo frustrante. A volte ci vorrà più di un tentativo per imparare dei propri errori e capire qual è la strategia corretta da utilizzare. Le missioni, mi preme sottolinearlo perché mi ha fatto molto piacere, le missioni sono ambientate nei periodi più disparati della storia della galassia lontana lontana e quindi in Star Wars Jedi Challenges non sono presenti soltanto contenuti ispirati ai film principali ma anche al cartone Star Wars Rebels e questa è una vera chicca, una cosa molto piacevole per chi sta seguendo tutto il nuovo canone. Concludo questa disamina parlandovi dell'ultima attività ispirata a una di quelle scene della saga di Star Wars apparentemente di contorno ma che poi sono diventate cult nel corso degli anni. Perché? Ebbene sì, se vi siete sempre chiesti quali siano le regole dell'Holo Chess, la scacchiera olografica con cui gioca Chewbacca sul Millennium Falcon, adesso lo scoprirete. Non scherzo, non scherzo, possiamo giocare ad Olo Chess ed è molto divertente soprattutto perché dall'altro lato non ci sarà uno Wookie pronto a strapparci le braccia, il che è un guadagno. Possiamo intendere l'Olo Chess se vogliamo come una sorta di scacchi spaziale anche se in realtà le regole sono diverse, ci verranno spiegate con dei tutorial semplici ma efficaci. È un gioco facile da imparare ma difficile da padroneggiare perché ogni pezzo, ogni creatura ha le sue caratteristiche, i suoi punti di forza, i suoi punti deboli. Il mio preferito personalmente è un bestione simile al Rancor, lento ma che quando attacca al nemico gli fa un paiolo così. Quindi se cercate un'attività rilassante ma appagante che metta alla prova le vostre doti da fini strateghi con anche quella spruzzatina di gioco di ruolo a turni che non guasta mai, beh, direi che l'Olo Chess fa proprio al caso vostro. Per quanto mi riguarda promuovo Star Wars Jedi Challenges. Per chi come me è un appassionato della saga è un'esperienza da provare anche perché si vede, si nota proprio che è stata realizzata con cura, con l'occhio rivolto agli appassionati più sfegatati. Tra l'altro vi consiglio di giocare al buio, a luci spente, sia per aumentare l'atmosfera sia perché le immagini si vedono meglio. Al buio ovviamente però non è tutto perfetto, qualche difettuccio c'è. In primis il peso del visore. È il primo visore per la realtà aumentata che provo. Mi è stato assicurato che è tra i più leggeri disponibili sul mercato, però per quella che è la mia esperienza, dopo un po' il peso si sente, diventa un po' scomodo. Quindi diciamo che non consiglio sessioni di gioco particolarmente prolungate. Un'ora va più che bene, sei ore magari no. Anche perché, come vi ho già detto, per giocare è necessario l'utilizzo dello smartphone che va inserito nell'apposito vano all'interno del visore. E forse proprio perché è chiuso in uno spazio ristretto, lo smartphone tende a scaldarsi abbastanza facilmente, non a livelli incredibili. Per carità, però un pochino si scalda. Quindi anche per questo sconsiglio le maratone, le sessioni di gioco eterne. Ultimo appunto, sempre per quanto riguarda lo smartphone, l'applicazione, visti tutti i contenuti che vi ho elencato, inevitabilmente pesa. Quindi bisogna fare un po' di spazio. Ne vale assolutamente la pena, però bisogna fare un po' di spazio. Nonostante questi difetti, come vi ho detto, promuovo Star Wars Jedi Challenges e tra l'altro dovrebbero arrivare in futuro degli aggiornamenti che amplieranno ancora di più l'esperienza e li aspetto con molta curiosità, con molto hype. In descrizione trovate un simpatico codice sconto per risparmiare qualche soldino sull'acquisto di Star Wars Jedi Challenges, cosa che di questi tempi è sempre utile e gradita. Detto questo ringrazio ancora Lenovo per avermi dato la possibilità di parlarvi di questo prodotto e che la forza sia con voi, sempre! Grazie per avermi dato la visione!